buongiorno a tutti dalla sua manica.com un sito tutta la magia oggi siamo di nuovo di nuovo ormai proprio mi tedia arriva qua a sorpresa quando facciamo i video l'ho letto gaffetto ciao a tutti ragazzi vi lascio il link qua sotto in descrizione per approdare sul suo canale che devo dire molto più attivo del mio tu programmi addirittura certo per mesi 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 per cui meglio non dirlo questo è un segno di organizzazione oggi tenterà mettiamo un bello scelto di full armi con una magia che si è studiato ultimamente è venuto qua nel mio negozio qua a casa mia concordia per tentare questa testa se abbastanza pronto 90 per cento dai 90 per cento è più della mezza a volte quello che basta vai allora max masso di carte giusto e fin da e fin qua tutti adesso guarda io ti chiedo di prendere un gruppetto di carte vai 10 o meno di 10 gruppetto di carte io non devo vedere questo numero di carte quindi io quindi un gruppo di carte a destra e sinistra o tutto tu che vuoi attaccato puoi anche prendere un po staccati tu che vuoi un po di carte un po di carte intanto parlo così non sento il numero tu non sapresti niente ecco quello ok voilà che ho di contare quante carte hai io parlo così non sento come posso risalire no no potresti mai ti senti adesso che ho di mischiarle e di guardarti la carta che sta sul fondo ok intanto io ho scoperto le carte per io ok mostro anche il numero fatta mettila insieme al matto ahah niente no ci provo faccio provo così facciamo permessi puoi disporre le carte in questo modo qua ok provo bene così è finito ok perfetto ci provo ah così non me l'aspettavo non serve niente 9 hai preso 9 carte si un carte un carte il 4 4 stavolta si si mi hai dato da pensare fortuna che abbiamo le prove video di quello che hai fatto maledetto il gazzetto allora dai bello maledetto il gazzetto mi è piaciuto e ci proverò anch'io ci proverò anch'io però dovrete vederlo sul canale suo ragazzi grazie per averci seguito fino a qui le solite raccomandazioni iscrivetevi al canale La Suona Medico guarda l'aletto al gaffetto e tutti i link di quello di cui abbiamo parlato li trovate in descrizione al video ciao a tutti ciao ragazzi alla prossima bello eh ciao